Ma intanto la conseguenza è diretta. Per finanziare le relazioni di traffico che aggiungono ai servizi minimi, il governo regionale e la maggioranza si apprestano a tagliare oltre un milione di chilometri di tratte regionali. Il progetto di legge è stato rivisto radicalmente perché era illegittimo da ogni punto di vista e aveva tutti i pareri tecnici negativi sia dell'ufficio legislativo del consiglio regionale sia del dipartimento della giunta regionale ma il dato finale è che ci sarà un gravoso taglio di chilometri per i cittadini e anche all'interno della società unica dei trasporti tagli importanti per quanto riguarda ovviamente la manutenzione, le strumentazioni, gli automezzi e i lavoratori. Io credo che bisognerà opporsi e convocare tutti i sindaci per quanto riguarda quest'ulteriore mannaia che si sta per abbattere al trasporto abruzzese. Dopo le vicende legate all'aumento dei prezzi delle ferrovie, alla questione del volo Milano-Pescara che rischia di essere cancellato, alla questione delle autostrade anche quest'ulteriore taglio sta per abbattersi alla regione Abruzzo.